16 a 12. Questo è il risultato della votazione di ieri della giunta regionale per le elezioni sulla doppia carica del presidente D'Alfonso che in questo momento è anche senatore. Dopo aver esaminato la lettera di otto pagine che il presidente ha inviato, la giunta ha ritenuto che il governatore possa continuare ad avere la doppia carica stabilendo a maggioranza dei capigruppo consigliari che non sussistono al momento cause di incompatibilità. Queste, è stato specificato, si verificheranno quando ci sarà la convalida degli eletti da parte della giunta delle elezioni del Senato. Infatti il Parlamento non ha ancora proceduto e fino a quel momento l'organo regionale ha deciso di non procedere con la dichiarazione di incompatibilità nonostante questa sia prevista dalla Costituzione nell'articolo 122. La palla ora passa al Consiglio regionale che potrebbe svolgersi il 30 aprile o il 3 maggio, quest'ultima data proprio in concomitanza con la direzione del PD che dovrà decidere se procedere con l'alleanza con i 5 Stelle o no. Nell'assise regionale la discussione si preannuncia invocata con il centrodestra soprattutto che continua a chiedere le dimissioni. Non c'è nulla da interpretare e da giudicare, lui è incompatibile nel momento in cui si è candidato ed è stato eletto e ha partecipato e ha votato al Senato, lui è incompatibile. Portare avanti un'amministrazione in queste condizioni significa solamente continuare a fare danni significa solamente inasprire un rapporto istituzionale che non giova agli abruzzesi e soprattutto non giova a un'amministrazione che in questi quattro anni ha prodotto il nulla. Giovedì andremo in Consiglio regionale e vedremo se anche altri consiglieri si aggiungeranno a quelli dell'opposizione che hanno votato ieri compatti per la sua sfiducia. Quindi credo che non questo gioco di fare resistenza non giovi a nessuno. D'Alfonso questa mattina ha risposto di sentirsi nella piena legittimità e nel pieno rispetto delle leggi. Io sono stato eletto 48 mesi fa Presidente della Regione e ho per mandato regionalista altri 12 mesi di tempo. Poi sono stato eletto con una legge molto generosa Senatore della Repubblica. Ho il diritto di opzione all'interno di un lasso di tempo che la legge prevede e anche le procedure già attivate in passato dalla legge. Nel campo e nel quadro dei tempi della legge usando gli strumenti che la procedura mi consente sceglierò, applicherò, utilizzerò l'istituto dell'opzione. Ieri è partita la procedura all'interno della Regione per quanto riguarda la verifica dell'incompatibilità. Nelle prossime settimane partirà identica procedura all'interno del Senato. Io quello che è certo è che non spreco il tempo. Nessuno può sollevarmi critica che il tempo, la clessida del tempo, non la sto dispiegando a favore degli obiettivi di Regione Abruzzo. Dopo l'intervista a microfoni spenti, i cronisti della carta stampata, che gli ricordavano il caso delle dimissioni della Serracchiani in Friuli, ha ricordato che il governatore PD Friolano era in scadenza. Lì, infatti, si voterà tra due giorni. Poi, accennato alla formazione del nuovo governo, D'Alfonso attende risposte da Roma. Io sto aspettando perché vorrei anche determinare una esatta pesatura di che cosa accade.